Io non penso, forse Italia deve sostanzialmente sottolineare il proprio ruolo di opposizione, lo deve fare in modo serio e credibile, non lo può fare nel silenzio condividendo in alcuni momenti o dando questa idea l'azione del governo oppure urlando contro il governo, dobbiamo farlo posizionandoci in modo serio e credibile su proposte alternative a questo governo e dimostrando quanto ci sia appunto di differenza fra le parole e i fatti. Questa manovra, questa legge di stabilità ha dei limiti enormi, si costruiscono dei castelli mediatici fatti di polemiche in Europa per cercare di nascondere il fatto che il governo italiano ha sostanzialmente approvato una legge di stabilità che non inciderà concretamente sui temi della crescita. Sfido chiunque a leggere i numeri e i dati della legge di stabilità indicati in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio appena approvato questo provvedimento e i contenuti della stessa legge di stabilità. Noi abbiamo bisogno che una forza politica come Forza Italia sia credibile richiamando quelli che sono i temi che tradizionalmente ci riguardano, rivolgendoci alle imprese e alle famiglie nelle politiche da portare avanti e guardando con attenzione a tagli reali della spesa pubblica e a tagli sostanziali dal punto di vista fiscale. Sono queste le parole guida sulle quali dobbiamo rilanciare il nostro impegno.